Ultimo video per quanto riguarda le elezioni, visto che ormai la data si sta avvicinando e oggi parliamo del programma politico di Unione Popolare. Partiamo innanzitutto con lavoro. Unione Popolare innanzitutto ci propone il salario minimo, l'abolizione del Jobs Act e l'abolizione della legge Fornero. Inoltre propone anche il contratto a tempo indeterminato come forma contrattuale standard e infine propone anche una revisione del reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda invece le politiche di istruzione e per i giovani, prevede libri gratis fino alla fine delle scuole superiori e anche cinema, teatri e mezzi di trasporto gratis fino ai 18 anni. Per quanto riguarda invece la politica estera, prevede il superamento della Nato, lo stop all'invio delle armi all'Ucraina e anche lo stop all'aumento delle spese militari. In tema di tasse invece prevede l'introduzione dell'imposta patrimoniale e anche la totale eliminazione dell'IVA per quanto riguarda i prodotti di prima necessità. In settori di ambiente ed energia vediamo che Unione Popolare ci propone la nazionalizzazione di tutto il sistema energetico e idrico italiano e anche un piano per l'autosufficienza energetica ma senza l'utilizzo dell'energia nucleare. Infine anche qui per quanto riguarda i diritti civili troviamo varie questioni. Vediamo innanzitutto la legge contro l'omotransfobia e anche il matrimonio egualitario. Prevede anche l'Oius Soli e troviamo anche la legalizzazione all'autoproduzione e l'utilizzo della cannabis e infine anche il sì alla eutanasia legale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sul mio profilo trovate tantissimi altri video riguardanti i programmi politici e le elezioni in generale. Mi raccomando, votate con saggezza! Grazie a tutti!